Tre cortometraggi realizzati dai licei Marconi e Mengaroni affrontano il tema dell'accessibilità spostando il punto focale dell'attenzione dalla disabilità fisica a quell'emotiva. Quella che produce sentimenti di disagio, inadeguatezza ed esclusione. Un'esternazione di stati d'animo in forma cinematografica che è il risultato del progetto WeFamily del bando regionale Facciamo Parte. L'Unione Ciechi e Ipovedenti è stata capofila del progetto prodotto dalla compagnia teatrale Asini Bardasci. Abbiamo coinvolto le scuole perché comunque è da lì che parte poi il concetto di inclusione, ma un'inclusione che non volevamo trattare come disabilità, ma volevamo parlare del disagio di tutti i giovani che oggi è molto frequente, soprattutto la solitudine, la diversità emozionale, l'isolamento e quindi ci premeva trattare questo argomento e i ragazzi lo hanno fatto veramente bene, hanno realizzato dei corti molto molto piacevoli. Presentati in comune i cortometraggi Iperuraneo e Sottosopra degli studenti del Mengaroni e, in fondo alla solitudine, del Marconi. Tutti i tre cortometraggi hanno una tematica molto intima, per certi versi, e anche che fa riflettere su quale sia il loro vero disagio. Tutte le loro realtà, tutti i loro tre cortometraggi hanno dimostrato un distacco da quello che forse in maniera patinata noi stiamo sempre più cercando. Sono dei cortometraggi dove l'audiodescrizione non è un tema solo accessibile per dare la possibilità a persone non vedenti di poter ascoltare e quindi vedere il film, ma diventa tutto tondo una forma artistica, un pieno che in qualche modo la forma del tutto così la cosa, insomma il progetto stesso. Secondo me siamo gli anticipatori noi, come generazione, di una società sempre più libera, di una società che ti permette di esprimerti come meglio credi senza opprimerti troppo perché riesci a avere persone che ti sostengono. Giovani sui quali si ripongono speranze verso un cambio di prospettiva su un tema dell'accessibilità su cui c'è ancora tanto da lavorare. Se non altro, ora se ne parla. Devo dare atto al Presidente del Consiglio Comunale che ha cominciato da quando ha avuto la delega a parlarne, quindi ad occuparsene. Però ancora c'è tanta strada da fare, ma vedi non tanto sulle barriere architettoniche, perché comunque quello che è stato costruito non è facile da adattare, ma a livello culturale, sulle barriere culturali, perché le barriere architettoniche che ci sono già, ok, un palazzo del 1400, del 1800, del 1900, è difficile da rendere accessibile, ma il problema è che anche nelle nuove costruzioni c'è l'inaccessibilità, anche nei nuovi progetti a volte non si guarda l'accessibilità, perché accessibilità è solo avere una strategia diversa, cioè guardare la situazione con occhi più ampi.